L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è tornato in campo in vista delle eminenti elezioni di midterm per invitare i democratici ad andare a votare. Parlando dal palco di un comizio a Las Vegas, Obama ha detto In questo momento abbiamo la possibilità di ridare un po' di integrità alla nostra politica. Possiamo ribaltare l'equilibrio del potere e ridarlo a voi, il popolo americano. Perché alla fine c'è solo un controllo reale sugli abusi del potere e sulla cattiva politica e siete voi e il vostro voto. Obama ha parlato delle elezioni di novembre come delle più importanti di sempre, anche di quando c'era lui tra i candidati. Le conseguenze della vostra permanenza a casa sarebbero profondamente pericolose, ha intimato la platea. Per il nostro paese e per questa democrazia. L'ex presidente è sceso in campo a sostegno della candidata al Senato del Nevada, Jackie Rosen, che sfida il repubblicano in carica, Jen Heller, l'unico senatore repubblicano rieletto in uno stato in cui a vincere è stata Hillary Clinton. Obama ha anche fatto appello al voto su Twitter. Non avete scuse, ha scritto. Registratevi e il 6 novembre recatevi alle urne.